Salve a tutti, un caro saluto da Francesco Samani. Proviamo a fare un esercizio simpatico relativo al domino. Allora, vi viene mostrato, adesso con i puntini non sarò perfetto, vi vengono mostrate queste immagini. A, B, C, D, è una successione. E, F, G. Sto andando oltre l'esercizio, insomma, che vi si presenta nel test, perché l'ho visto, da questo ci voglio creare un video più corposo che possa essere di spiegazione a tanti esercizi riconducibili a questo. Poi, ancora, abbiamo una tessera del domino per ora vuota, la C la riempiamo e facciamo un domino costituito da 6 e 6. La quarta la lasciamo vuota, poi qui ci mettiamo 1 e 1. Allora, dobbiamo ragionare come andare a riempire le varie tessere. Quindi, la domanda potrebbe essere di andare a riempire una tessera di questo tipo, oppure vi fanno proprio una presentazione di questo tipo, solo le prime 4, e vi dicono qual è la risposta corretta. Cioè, all'interno di B, che cosa dobbiamo andare a inserire? E magari avrete diverse risposte. Ad esempio, potrete avere questa di risposta, e così via. Potrete anche avere la risposta di questo tipo qua, un'altra di questo tipo qua. Ok. Allora, la prima tessera a sinistra, partiamo, analizziamo, mostra una coppia di 4. Successivamente, nella B, quindi coppia di 4. Nella seconda tessera, ancora non diciamo niente. Adesso andiamo solo ad analizzare quello che si vede. Poi vediamo una coppia di 6, poi vediamo una coppia di niente, quindi è una coppia di 0. Poi, una coppia di 1. Poi, non vediamo niente, potrebbe essere una coppia di 0. E non vediamo niente. Vabbè, io ne ho fatti tante, ne ho creati tante, di tessere di domino, proprio perché mi interessava fare un esercizio che potesse essere il più completo possibile. Ma, se ci pensiamo, se al 4 aggiungiamo più 1 e poi dalla B continuiamo ad aggiungere più 1, probabilmente da 4 si arriva a 5. E da 5 si arriva a 6. Da 6 si dovrebbe arrivare a 7, ma 7 come tessera nel domino non esiste perché i numeri sono solo compresi da 0 a 6, si ritorna a 0, quindi non c'è nulla. Da 0 se si aggiunge 1 si ottiene 1, se si aggiunge ancora 1 si ottiene 2, se si aggiunge ancora 1 si ottiene 3. Ed ecco qua che possiamo completare la nostra sequenza delle 7 tessere di domino con una coppia di 5, una coppia di 0, una coppia di 1, una coppia di 2 e una coppia di 3. Quindi a questo punto avremmo potuto rispondere, in questo caso la nostra risposta senz'altro è questa, cioè se volevamo rispondere a come riempire, a come, qual era la risposta giusta relativamente alla tessera di questo domino, ovviamente la risposta giusta è quella che raffigura un domino con 2, 5. Diciamo che qua io ho cercato di riportarvi sia dal punto di vista visivo che dal punto di vista del nestologico la matematica che governa la sequenza di tessere è ovvio che questo esercizio per alcuni sarà estremamente semplice per altri utile per altri interessante è ovvio che ce ne sono tanti di esercizi che si possono fare sulle sequenze sulle logiche bisospaziali sulle logiche cioè essenzialmente noi che prepararci bene al concorso e alla prova preselettiva dobbiamo sicuramente affinare tutto quello che è la logica il ragionamento critico il problem solving soprattutto se ci troviamo di fronte a qualcosa che non abbiamo mai risolto dobbiamo esercitarci alla riflessione al riflettere al ragionare al ragionamento all'analisi all'analizzare alle attitudini verbali soprattutto nella relativamente alla comprensione del testo al ragionamento critico ok ce l'ho già inserito alle abilità di calcolo mentale abilità di calcolo mentale queste sono tutte attitudini e abilità che possiamo esercitare e che già troverete nel canale come video di preparazione al concorso e nello specifico video di preparazione alla prova preselettiva sicuramente quindi vi si richiederà un intuito logico matematico vi si richiederà una capacità di ragionare in termini astratti anche rispetto a dimensioni spaziali quindi una logica astratta una logica visu percettiva e ho andando a vedere insomma quello che mi avete mandato e quelle che sono le prove di preparazione al concorso anche qualcosa tra le forze fisiche ed elementi meccanici ad esempio se abbiamo delle masse posizionate ad una determinata distanza quindi se abbiamo una questa in realtà in fisica è una leva ci sono leve di primo secondo terzo tipo però in realtà può anche diventare una bilancia può anche diventare un pendolo a diverse si può prestare a diversi esercizi sicuramente all'interno di questi video io vi inviterò da un punto di vista anche sperimentale riconosciuto ad affrontare grazie agli strumenti e alle nozioni teoriche i più comuni quei siti attitudinali logico detettivi deduttivi invitandovi anche a crearvi una tecnica ed un metodo più efficace per risolvere correttamente anche rapidamente gli esercizi i test abituando la vostra mente a ragionare in termini di logica quindi io poi vi risolverò molti esercizi che mi mandate voi in tanti casi o che vi propongo io vi ricordo per essere aggiornati sui nuovi video iscrivetevi al canale e attivate la campanellina poi se esce un video che non vi interessa lo saltate se vi è piaciuto il video mi fa tanto piacere che mi mettete il pollice in su soprattutto la cosa che mi fa più piacere è che mi lasciate un commento qui sotto dicendomi sì il video è chiaro sì l'esercizio è chiaro però è semplice oppure grazie questo esercizio mi ha aiutato no non mi ha aiutato quello che volete poi per chi volesse proprio fare qualcosa di più per aiutare il canale avete anche la possibilità di condividere il video tramite whatsapp facebook ai vari canali e ai vari social network io con questo vi ringrazio vi auguro una buona prosecuzione di giornata e un vi mando un caro saluto e un po' Grazie a tutti.